... Dici la mia storia che ha reso grande questa città, a te, voglio dare il gesto degli uomini che l'hanno fatta grande. A te dare un coraggio con cui un popolo, esiliato da una tarota di un fiamme, imprede al saccheggio straceno, ha ricostruito una casa su una altura a chiede di una valle, da prima come rifugio di un carino e di un autore, poi essi poi trasformano in un'errocaforte, come il bambuardo che guarda la mia fonte, se non mai il castro malattine. Incerite sono le dati di fondazione della città. Nel periodo medioevo si perdono le fasi in cui Martina cresce e prolifera, ma scoperto su una pietra, resta un anno. L'unico 310 è come un uomo, Filippo I d'Angelo, conciliato da Gaia, Diede alla città e i suoi invitanti in cui legge di inalienabilità, rendendo Martina quella che è franca, libera, grande. La città è la città, libera, grande. La città è la città, libera, grande. La città è la città, libera, grande. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.